Allora, questa è la seconda parte, altri nuovi bustini 10, diciamo, e iniziamo con la funzione. Allora, abbiamo capito che la quarta, da sotto. Allora, capite, sì. E abbiamo, Marovac, Etoavros, Iberina, Oddish, Mello, Ivi, Exeglio, Manchi, Pokéball, Paras e la Rara, Clefable, Olografica. Questa è sempre Ciclipop. No. Sì. E sono tutti Ciclipop. È rosa. È rosa, sono Ciclipop. Ciclipop. Mi Ciclipop. È salvata, mamma. Chi le sta salvando tutte? Sei tu chi? Sei squadra. Dicatum. Dicatum. Butterfree. Primip. Cuban. Vesprut. Spiro. Venanat. Jigglypuff. Oddish. Manchi e Wigglytuff. Ci serviva. Poi quella della bustina, l'hai visto? Hai visto? Questo è Jigglypuff. Questa è la evoluzione di Jigglypuff. Io ho. Vedi questo qua. Graffo. Mi fa tutto tutto. Nel bus sono flyer. Nel bus sono flyer. Nel bus sono flyer. Electrod. L'evoluzione delle uova. Diventa un'anono. Sì, è una cosa che è un uova. No. Quindi non sono le uova. Executor. Raiden. Firo. Veranat. Ryer. Vesprut. Pugetball. Nidra. Jigglypuff. Quban. E cangascano lo grafico. Che ci serviva. Questa è la carta al parco. Doveografico e non onografico. glum seekin executor fokinball spiro pikachu vespa venanat raya giripass e sider no no ragazzi ci mancano questa di flyer ce ne rimangono altre 4 con questa 5 che bello e abbiamo primate dovio taurus gillipass venanat golden monkey vespa raya meo e la rara è mister mime non olografico io possiamo adesso tornare e tv no ora vi vor vi il titolo no cavilas nina femmina paris pikachu gilio spira vero è fatto la roma no che non ci servono è il quarto questa si è di sotto la quarta da sotto la quarta da sotto phyro primef ikidum spiro rayor jigglypuff oddish nidra solito meo pokeball e la rara è un altro sider non monografico non 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 evi best e vai più un polo grafico che ci si legge l'altro l'ultima ma forse ce la facciamo a farne tutte e tre io sono veloci xd xd avete detto pesciò cosa di buono allora questo video sale d prime paris Vespra, Nidra, Goldin, Badiglio, Rayor, Meo, Gillipoff e la rara, Pinsir monografico, ci serviva. Nidorina, Firo, Digidum, Goldin, Tubon, Vespra, Spiro, Gillipoff, Oddish, Ili, e meggiolteon. L'avevo visto prima. Ci sono rimaste le ultime due. Che ti fa finire? Sono nove minuti però, ne facciamo nell'altro video. Grazie.